Grazie Presidente, ma io concordo in buona parte con i colleghi del Partito Popolare, c'è un po' di ipocrisia, anche di esitazione in quello che ci ha detto il Commissario. Nella comunicazione 2010 si è arrivati al paradosso che la parola Taiwan non la si è e non la si può pronunciare. Questa è una piccola Cina, molto demografica e straordinariamente vitale dal punto di vista commerciale e anche delle innovazioni tecnologiche. C'è un principio di realtà al quale, soprattutto in sede commerciale, dovremo attenerci. Taiwan esiste ed esiste di fatto come uno Stato sovrano. Taiwan è membro a pieno titolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Con Taiwan abbiamo fiorfiori di scambi commerciali e Taiwan negozia con molti Paesi terzi o negozierà con molti Paesi terzi degli accordi di libero scambio. C'è anche un'altra cosa vera, che la Cina risponde sempre, la Repubblica Popolare di Cina, con molta irritazione ai nostri approcci con Taiwan, però abbiamo anche l'impressione che in una fase successiva è capace di adattarsi con un certo pragmatismo. Dunque si ritorna alla domanda di origine alla quale non abbiamo ancora avuto una risposta convincente. È possibile un accordo di libero scambio anche di serie B, anche settoriale, con Taiwan? Io credo che questo Parlamento sarebbe pronto a sostenere la Commissione in tale sforzo.